Questo è il fatto unificante, lo dicevano nello scritto che vi ho dato, di questa superficie a colore che è il soffitto, che è una rarità assoluta. Per cui è tutto talmente diverso da quello che usi vedere che alla fine non valuti più, anche per esempio poi i materiali, sono tutti materiali poverissimi perché questo è legno, come si dice, quello compresso, il... MDF tipo? Multistrato? Sì, è un multistrato, salvo poi avere delle finiture, delle fasce di finitura di legno... Massello. Massello e pregiato. Nobile. Nobile, pitch pine o qualcosa del genere. Per cui, però, in realtà questa libreria è fatta di materiali poverissimi nel complesso. Lo stesso le porte, lo stesso vale per gli armadi, perché per gli armadi, poi, sì, anche qui la nobiltà dell'armadio è data da queste fasce sempre nobili di pitch pine, che sono le... dove vengono incernierate le ante, anche qua. Sì. Sì. Sì, questo mi rendo conto, questo è pitch pine e questo non so cos'è un altro... però le porte sono proprio di questo masonite che ha materiale sempre di legno pressato, non so... è industriale, è industriale e vedi come si macchia. Io non ho, probabilmente c'è un modo per riformare, per pulire. Le donne di servizio a volte hanno pensato di fare delle cose e hanno fatto peggio, perché poi hanno lasciato dei segni... delle macchine di gocce, di liquidi vari, di detersivi vari o di... quindi... ... ... ...